carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di gloria polo continuiamo questa sera il nostro viaggio ricordiamo che si sono formati la volta scorsa all'inizio della narrazione dopo la chiusura del libro della vita e abbiamo concluso con il severo giudizio a cui gloria fu sottoposta dalla voce che le domanda cosa hai portato ora è il momento di rendere conto di quello che hai fatto chiudendo con quella con quell'ultima interrogazione a che ti serve adesso che la gente credendo di una santa a causa della sua porrisia stia chiedendo miracoli per tua intercessione e mi permettevo insomma di dire che di ricordare attenzione prima di fare facili processi di canonizzazione dei devunti che processi di canonizzazione di fa santa madre chiesa e a differenza peraltro di certi brutti andazzi che vanno di moda adesso che sono un po troppo veloci un tempo ci volevano i secoli prima di accertare che uno fosse santo insomma no tutto perché è una cosa molto molto complessa molto laboriosa e da verificare con estrema attenzione insomma prima di distribuire attestati di santità devono esserci le prove quindi un mio consiglio spassionato è quando muore qualcuno dei nostri cari facciamogli celebrare tante messe di soffragio che è la cosa migliore non diamo attestati di passaporti per il paradiso che non credo che nessuno di noi gestisca qualche questura capace di rilasciare passaporti per il paradiso insomma no quindi ecco e nemmeno i parroci che celebrano i funerali insomma no allora andiamo avanti a questo punto con un nuovo paragrafo che si intitola mi sento finalmente bisognosa della misericordia di gesù e sentire adesso quello che dice questo quello che dice gloria io peraltro insomma nella mia piccola esperienza nella mia povera testimonianza che posso dare posso confermare che questo insomma è verissimo al 100% sentiamo cosa dice rimasi schiacciata da quel giusto giudizio penzolante a testa in giù in quell'orribile voragine chiamai in mio soccorso i santi di cui ricordavo il nome sant'ambrogio sant'isidoro lavoratore e tanti altri e gridavo salvatemi salvatemi ma vi era solo silenzio risposta alla mia soppria gira confusamente il mio sguardo bagnato di lacrime disperate e incrociai gli occhi della mia mamma che dolore per tutta la vita quella santa dolla vuole portarmi a dio ed io la snobbai mamma che vergogna mi sono condannata con le mie stesse mani e non potrò mai più rivederti da dove andrò la mia mamma non si scompose ma sollevò il suo sguardo estatico proprio mentre anch'io stavo per dirigere il mio sguardo laddove il suo era già diretto si staccarono dai miei occhi le croste vive della mia società spirituale ed ebbi la visione di una mia paziente nel momento in cui mi stava dicendo dottoressa quanto sto per dirlo mi è molto difficoltoso a causa del suo materialismo e della sua chiusura la vera spiritualità ciononostante mi ascolti bene quando si troverà in una sorta di pericolo vitale non esiti a chiedere a gesù cristo di ricoprirla con il suo prestosissimo sangue purificatore perché lui che l'ha già riscattata per mezzo del suo sangue la esaudirà e non l'abbandonerà mi veniva e suggerito esattamente ciò che avevo dovuto fare ma che fino a quel momento non avevo saputo ancora fare a caso della mia presunzione di innocenza e della mia confusione religiosa che mi faceva equiparare i santi a gesù accogliendo allora gesù come il mio signore salvatore riconomi per la prima volta che la voce meravigliosa da mio dita fino a quel momento era gesù e gridai gesù cristo abbia compassione di me signore perdonami dammi una seconda opportunità allora amici come possiamo capire qui lo snodo fondamentale attraverso cui vedremo adesso no c'è anche una svolta nella vicenda di gloria quale è stata la requisitoria e la denunzia dei peccati che gradualmente abbiamo visto snodarsi nel corso delle puntate precedenti culminante nelle severissime parole di gesù con cui abbiamo concluso la scorsa puntata ora siamo nel tempo di avvento in questo questa questa catechesi di questa sera questa conversazione capita appunto tra la seconda e la terza settimana d'avvento cioè tra la domenica del giovanni battista e la domenica della gioia non è un caso perché la chiesa ha una sapienza soprannaturale che la guida nella disposizione di queste cose san giovanni battista non le mandava a dire amici miei le cantava papari papari si dice ma lo stile di san giovanni battista è stato ripreso da tutti quanti i grandi santi predicatori tutti se non è venuto gesù bisogna essere più buoni gesù viene dopo giovanni battista dopo non prima sapete qual è uno dei grandi problemi del mondo contemporanea della cosiddetta chiesa di oggi a me sinceramente fa un po sorridere l'espressione chiesa di oggi no bisogna essere fedeli alla chiesa di oggi dico bisogna essere fedeli alla chiesa non c'è la chiesa di oggi la chiesa di ieri e la chiesa di domani non esiste un discorso di questo genere perché certamente pur non variare delle epoche dei contesti storici sociali insomma no io sto facendo una cosa completamente atipica no c'è fino a 50 anni fa ma va anche meno fino a 30 anni fa era impensabile una cosa così no io sto parlando ma in presenza vicino a me in questo momento non c'è nessuno ci sono gli angeli custodi però sono collegate in svariati posti presumo d'italia forse anche fuori boh circa 170 persone aumenteranno perché questa diretta in genere va oltre le 200 e poi indifferita ascolteranno il video e se ascolteranno il podcast un sacco di gente abbastanza questa non c'è mai stata quindi sotto questo punto di vista cioè la modalità della predicazione è differente un po sì anche perché attraverso queste forme quello che si dice si cristallizza cioè uno se lo può sentire pure 500 volte ho detto tante volte io non sarei mai capace nessuno lo sarebbe di rifare una predica esattamente così come l'ho fatta a meno che io non me la scrivessi la leggo e poi la rileggo ma se non l'ho scritta non so buono ma se uno se uno registra è quella sta là a tempo indeterminato cambia il modo ma spero che non cambi il contenuto perché il contenuto non può cambiare Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi è sempre quindi se la pedagogia divina ha fatto così c'è prima l'antico testamento e poi il nuovo ci sono prima le suonate e poi la misericordia c'è prima san giovanni battista che ti spazzola per bene e poi c'è Gesù che arriva a offrirti la misericordia Gesù significa salvatore ma se tu non prendi coscienza che devi essere salvato che stai rovinato che stai a pericolo in pericolo di precipitarti nell'inferno ma sapeste quanta gente mi ha scritto e mi dice mi racconta cose del genere io stavo andando all'inferno per direttissima non lo sapevo ma se qualcuno non parla dei peccati non 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 li denuncia e che cosa vogliamo certo non è un compito gradevole perché c'è chi ti ascolta e si converte sta pure una montagna di gente che ti ricopre di insulti fa niente non importa perché questo è indispensabile noi dobbiamo essere salvati perché non è che Gesù è venuto a tribolare e a soffrire come ha sofferto così perché c'era niente da fare ci sono dei motivi gravi l'andazzo che gira adesso ma si sente basta che uno va a un funerale che qui vanno tutti in paradiso qualunque cosa abbiano fatto la misericordia di dio che è considerata quasi un diritto un diritto tra l'altro un diritto incondizionato non solo uno c'ha diritto quando noi non abbiamo nessun diritto verso la divina misericordia noi abbiamo soltanto un diritto mettiamocelo bene in testa sapete che diritto ci abbiamo di essere sbattuti dritti dritti all'inferno d'accordo tutti a meno che qualcuno non abbia avuto in sorte di essere una reddiva santa gemma calgani per chi vede il video sta alle mie spalle un poster grandissimo quello non ha mai fatto manco uno di peccato mortale però come diritto sapeva quello di andare nel limbo perché peccato originale c'è pure lei non abbiamo altri diritti diritto è ciò che è giusto ciò che uno si merita a stritto senso non ci andiamo perché perché gesù ha preso su di sé le conseguenze dei miei peccati si è caricato delle mie colpe a pagato le mie responsabilità mi ha rivestito dei suoi meriti a condizione però che mi metto in condizione di riceverli non è un automatismo ci vuole la conversione il paragrafo si intitola significativamente mi sento finalmente bisognosa della misericordia di Gesù perché come tutti ma parlate con la gente voi pensate che in giro la gente si sente bisognosa della misericordia di Gesù ma anche no ma assolutamente no io ho fatto di male non faccio niente di male a nessuno non rubo non ammazzo non faccio male a nessuno non dico male di nessuno se qualcuno mi dice mi faccio gli affari miei se qualcuno mi se posso dare mano a qualcuno lo faccio e poi da me la stragrande maggioranza della gente campa così ma però sia la grazia perché una grazia di ricevere una parola e starla ad ascoltare dopo passerà sicuramente come tutti chi li prende un colpo un colpo si accorgerà che non è così tanto santa non è così tanto impeccabile non è che così tanto non ha fatto niente di male e forse le sorprese saranno ricche e numerose allora gloria sta quindi penzoloni e quindi sta per precipitare dentro l'inferno e fa questo grido dammi una seconda opportunità perdonami andiamo avanti significativamente questo capitolo si chiama la sentenza del mio giudizio particolare e comincia con l'intervento e parole di Gesù appena termina la mia preghiera vi dirà mano di Gesù scendere verso di me afferrarmi e togliermi da quella voragine orribile che momento meraviglioso mi avva da gioia in piedi sulla zona pianeggiante del basso purgatorio e senza che potessi vederlo se non i suoi piedi e un lembo della sua tonica di una bianchezza indescrivibile gli udì dire con infinito amore e dolcezza tornerai avrai la tua seconda opportunità dire che ebbe un'esplosione di gioia all'udire quelle parole sarebbe sminuire la mia reazione avrai la tua seconda opportunità non per le preghiere della tua famiglia perché è normale che piangano e supplichino per te ma per le preghiere di tutte le persone strane alla tua carne e al tuo sangue che hanno pregato e supplicato per te il grande potere della preghiera è l'intercessione prima di reagire a questo volevo un attimo soltanto fare una piccola chiosa vedete perché la Madonna a Fatima e oggi dice pregate e fate sacrifici per i poveri peccatori perché un sacco di gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro chi di noi vuole concorrere alla salvezza di qualcuno vuole ascoltare gli inviti della Madonna deve pregare e deve fare i sacrifici digiuni e penitenze come facciamo a sacrificarsi chiedere il chiesa del pastore di Fatima in tutti i modi possibili tranquillo che se vuoi fare penitenza del Signore te ne ispirerà te ne farà inventati ogni tranquillo non c'è bisogno di avere i gobbi che ti danno il suggerimento o di tutto ti inventerai tutto sta a che c'è la voglia però adesso Gloria spiegherà che lei non è andata all'inferno come Gesù gli ha spiegato perché ci sarebbe andata per le preghiere e i sacrifici di gente che non aveva mai visto e conosciuto leggo i mezzi di comunicazione nazionale della Colombia coprirono la notizia del mio incidente e molte persone vennero a conoscenza della mia situazione si commossero fecero pregarono per me fecero celebra le sante messe mentre mi trovavo nell'aldilà vedi che le anime di queste persone oranti salivano alla presenza del Signore come scintille del fuoco d'amore che l'Eucharistia una tale visione era uno spettacolo per la vista che mi infondeva il desiderio di pregare per il prossimo ed essere una di quelle scintille di vivere la presenza del Signore i dianchi che moltissime anime del purgatorio riconoscenti per le preghiere che io offrì per loro da bambina pregarono per me uniti in una sola lacrima vedi la Vergine Maria prostrate per il Signore Gesù nella chiesa di Santa Teresina del bambino Gesù nel momento in cui il sacerdote levava la particola consacrata nel rito eucaristico della messa eseguiale di mio nipote Olvar Edoardo la Vergine Maria stava intercedendo per me sulla mano destra aveva tutte le preghiere dei santi e sulla sinistra tutte quelle delle anime oranti della chiesa purgante e militante della Colombia il contadino e qui c'è il famoso campesino in spagnolo io mi ricordo quando Gloria venne a Borgo San Michele quando è arrivata questo passaggio è diventata commovente la testimonianza perché lei la ricorda in lacrime tra le anime oranti della Colombia venne era una che splendeva particolarmente a cui debbo in modo speciale la mia seconda opportunità era la fiamma più grande di tutte era più grande io cercai di vedere chi fosse quell'uomo che mi amava tanto e il Signore Gesù mi accontentò mostrandomi che era un contadino molto povero che viveva ai piedi del massiccio montuoso di Santa Marta aperte virgolette parla Gesù guarda non ha nemmeno un pezzo di pane sulla mensa né per lui né per la sua famiglia vi dico un incendio gli aveva bruciato i raccolti della sua terra e le poche gallinelle che aveva gli erano stati state sottratte dai guerriglieri della FARC che incuranti dell'estremo disagio suo pretendevano assoldare il suo figlio maggiore privandolo così di un valido e necessario aiuto nel lavoro dei campi ebbene domenica 7 maggio 1995 si vestì con l'abito domenicali e con i suoi figli si diresse lungo un impervio cammino verso la chiesa del borgo incurante della fatica lo vedi entrare in chiesa e partecipare gioioso alla santa messa vedi che aveva il dono delle visioni come avevo io quando ero bambina udì la preghiera del suo cuore signore ti amo grazie per la vita grazie per i miei figli grazie per avermi dato la grazia di amarti per favore fa che i miei figli ti amino che la colombia ti ami e che tutti diventino buoni era una preghiera di lode e di richiesta altruistica che gran bella anima lui sì che era un vero e proprio cattolico poi il signore mi fece guardare anche nel suo portafoglio aveva una banconota da 10.000 pesos e una da 5.000 era tutto il suo capitale quando passarono con il cestino delle offerte vi mise dentro la banconota da 10.000 non quella da 5 per inciso io offrivo una tale banconota solo quando me ne rifiravano una falsa nel mio studio dentistico vedete i ricchi mi fermo un attimo cioè che cosa vogliamo dire io faccio il parroco penso che sia abbastanza noto almeno da chi da chi mi riconosce insomma ho innumerevoli difetti ma non quello di andare spero di non essere venale o attaccato ai soldi né come privato né come parroco però assicuro che dentro i cestini delle queste ci sono ancora le monete da un centesimo e da due centesimi per carità ma qualcuno ce le ha messe io premesso che d'accordo la provvidenza è sempre grande però mi chiedo che cosa come si fa a fare una cosa del genere chi fa questo farà una cosa del genere perché vuole che fare la mossa quindi far vedere agli altri che partecipano a questo però si boh questo con i figli e con la famiglia banconotto da 10 da 5 c'è niente da mangiare e mette quella da 10 sono i piccoli grandi eroi questi vabbè e gloria che confesso io ce la mettevo quando mi definavano una falsa così poi ce la sbologniamo e la mettiamo dentro come ce la facciamo a sbologniamo a buttare dentro la gazzetta delle quest della chiesa finita la mese del contadino uscita della chiesa e con la banconota rimasta compro una panela e del sale panela è un panetto dolce cristallizzato ottenuto dalla cottura del succo della canna da zucchero il negoziante gli avvolse la panela in un mezzo foglio del quotidiano e le spettador del giorno precedente su cui vi era un articolo riguardante il mio incidente non sapeva leggere bene ma si sforzò di farlo e con lentezza lesse dentista che tenerezza a ogni riga i suoi occhi si confiavano di lacrime che poi scendevano lungo il suo volto sembrava che l'articolo fosse su sua figlia e non su una perfetta sconosciuta fu tanto il dolore del suo cuore che rimase con il volto prostrato a terra padre abbi compassione della mia sorellina signore salvala signore se tu salvi la mia sorellina io ti prometto di andare al santuario di Buga come vuoto però salvala signora non aveva di che mangiare e nonostante ciò si offriva di attraversare quasi tutta la Colombia da nord a sud percorrendo più di mille chilometri per me questo povero contadino seppe deviare il rigore del mio iniziato tormento con la preghiera e l'immolazione il dolore e la fede lo fecero accetto a Dio parlò in mio favore e prese Dio con i lacci dell'amore perché quel Dio che nessuna forza lega è come minusco un uccellino preso nella rete quando un animo lo circuisce d'amore si arrende e benedice il signore si commosse e indicandolo mi disse quello sì che è amore del prossimo quella missione mi è approfondamente commosso e riempito di gratitudine per quel contadino signore ti prego dimmi chi è quel contadino affinché posso andare a ringraziarlo e posso aiutarlo economicamente no figlia quando verrà a me sarò io a svelargli nel libro della vita i suoi meriti e a ringraziarlo dandogli il paradiso eterno permettimi signore di compiere al suo posto il voto che ha fatto per me al fine di evitargli le consistenti spese di viaggio va bene mi disposa Gesù quindi vedete la preghiera e il sacrificio no fare un pellegrinaggio di mille chilometri senza averci una lì in tasca insomma un bel sacrificio no conferimento della missione questo punto Gesù dà a gloria la sua missione quello che hai visto e udito non lo ripeterai mille volte ma mille volte mille cioè un milione e guai a coloro che ascoltandoti non cambieranno perché saranno giudicati con maggiore severità come lo sarai anche tu nel tuo secondo ritorno i miei unti cioè i sacerdoti o chiunque altro perché non c'è maggior sordo di chi non vuole ascoltare né peggior cieco di chi non vuole vedere ricordati che la chiesa cattolica è tua madre sottomettiti dunque ad essa se la chiesa ti imponesse un silenzio contro il mio comando obbedisci e taci mia madre appare nel mondo ma stai attenta perché la maggior parte delle apparizioni mariane vengono dal demonio audite audite quando anche a te parrà di vederla non lasciarti trasportare dall'emozione ma chiedi che il mio preziosissimo sangue scenda su di te a protezione figlia mia stai per entrare nel tuo corpo quanto prima confessati vogliamo commentare figlioni miei cari guai a coloro che ascoltandovi non cambieranno ricevere una testimonianza del genere è tanta roba figlioni miei cari poterla ascoltare è tanta roba ci sono tante cose che abbiamo ascoltato e ci sono tante reazioni possibili dinanzi alle tante cose che abbiamo ascoltato io ho anche già sentito qualcuno eh ma sarà vero eh ma non sarà vero ma questo testo nuovo perché c'era un testo antico c'era Bogotà 2005 non è proprio così non si leggono tutte le cose che stanno scritte qui qui ci sono delle cose molto forti che abbiamo sentito nelle puntate precedenti e questo testo qui è il testo ufficiale perché è stato letto approvato da Gloria Polo in persona non è una trascrizione di una sua conferenza mera c'è una nota attenzione che questo fatto detto riguardo alla Chiesa Cattolica è una cosa ad persona ma riguardante le modalità del sorrimento della missione di Gloria il testo non è da intendere come una richiesta generale di sottomissione cieca agli abusi della gerarchia ecclesiastica nein la sottomissione agli abusi non è richiesta da da Dio è attenzione e poi mia madre appare nel mondo ma stai attenta attenzione perché la maggior parte delle apparizioni mariane vengono dal demonio amici miei cari la maggior parte e qui ci vuole discernimento anche quando a te paresse di vederla non lasciarti trasportare dall'emozione l'emozione pericolo per tutti sottoscritto compreso l'emotività qual è il contrario dell'emotività figlioli miei cari la razionalità noi non possiamo accostarci per esempio ad una apparizione dicendo ho letto qualche messaggio mi sento che è vero il mi sento non è un criterio di discernimento miglioli miei cari c'è stato recentemente un caso sbugiardato palesemente falso di apparizione mariana però se vogliamo dirla tutta io non ci credevo per niente a quell'apparizione e lo sapete perché lo dico tanto non dico il nome dell'apparizione perché la Madonna non appare non può apparire ad una persona di sesso femminile che ha capelli tinti truccata pantaloni e d'estate giro manica io non ci credo manco se lo vedo chiaro e in più come mi fu riferito un sacerdote che ci andò a parlare parlavo con questo sacerdote senza manco guardarle in faccia e fumando fumando la Madonna appare a una persona che fuma dico ma il discorso è chiuso per quanto mi riguarda chiuso chiuso e su queste cose bisogna essere rigidi chiuso il discorso non voglio far venire i dubbi o far diventare però non lasciarti trasportare dall'emozione noi ci abbiamo sempre un punto di riferimento sicuro nella sana dottrina cattolica non della chiesa di oggi o meglio della chiesa di oggi e della chiesa di sempre se si usa il termine la chiesa di oggi in maniera un po' ambigua come voler dire la chiesa di oggi che non è la chiesa di ieri ma non non ti sto proprio a sentire ci abbiamo la sana dottrina cattolica ci abbiamo gli iscritti dei santi e dei dottori quelli sono i punti di riferimento imprescindibili e vi assicuro che santi e dottori altro che don leonardo erano severissimi tutti rigidi di più andate a leggere le cose che diceva che faceva padre pio andate 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 ok secondo ritorno alla coscienza mia sorella cristina la dottoressa e i miei familiari erano convinti che sarei morta i reni infatti avevano perso la loro funzionalità ormai da giorni e i medici non mi avevano sottoposto a dialisi reputandolo nel mio specifico caso un accanimento terapeutico data la mia situazione clinica di deterioramento multisistemico pur continuando a prestarmi gli altri trattamenti comunemente prescritti inclusi antibiotici e ossigeno terapia idratazione nutrizione e assistenza infermieristica lunedì 8 maggio 1995 terzo giorno di coma coincidente con il funerale di mio nipote Olvar Edoardo i miei familiari dunque fecero allestire la sala funeraria per quello che sarebbe divenuto da un momento all'altro il mio cadavere i dottori permisero che i miei parenti e anche alcuni miei pazienti venissero a darmi l'estremo saluto il pericolo di sepsi fu considerato ininfluente poiché da lì a poco sarei morta inaspettatamente però i miei reni ripresero la loro funzione iniziando a rilasciare il liquido trattenuto mi sfiammai rapidissimamente e l'acqua dei miei polmoni scomparve iniziai a respirare spontaneamente e potei essere scollegata dal respiratore il mio cuore ritornò a pompare con forza non ero morta Cristina era al mio fianco quando presi coscienza e apri gli occhi le prime parole che pronunciai con estremo dolore fisico seppur con voce flebile in piena coscienza volendo assolvere immediatamente alla missione affidata il mio addio furono Cristina dobbiamo cambiare vita il diavolo esiste l'ho visto Cristina sbalordita e confusa dalle mie inattese parole si portò l'indice della sua mano destra al naso facendomi segno di tacere zitta non dire così che mi spaventi i suoi occhi erano lucidi di commozione tacqui non solo per la richiesta di mia sorella ma anche perché non ebbi più la forza di continuare a parlare ogni parola pronunciata mi provocava infatti un bruciante un tormentante bruciore interno il giorno seguente 9 maggio venne riportato alla clinica San Pedro Claverra venne sottoposta alla dolorosa cura delle aree bruciate e alla fasciotomia questo dolore si univa a quello costante delle ustioni il mio corpo ardeva sia all'esterno che all'interno fino a quel momento non avevo mai ringraziato Dio per la mia capacità di respirare e di decutire ma ora che sperimentavo dolore ad ogni respiro e ad ogni decutizione comprendevo il valore del dono e ne ero veramente grata ed io che in precedenza mi sentivo disgraziata perché non possedevo i soldi che avrei voluto avere per comprarmi gli oggetti desiderati avevo già un dono inestimabile e lo svalutavo dandolo per scontato e scontato non era io qui se può essere cosa gradita vi racconto quello che è successo a me ormai quasi 30 anni fa quando entrai a vedere il mio amico Francesco ormai gli ultimi giorni della vita ridotto in fin di vita dietro l'ospedale steso su sto letto ci aveva sul petto un catetere messo che da dentro c'è stato non si sa quanti tubi per fargli tutte quante le terapie che gli facevano e purtroppo c'era anche il catetere che è una cosa che mi fa tanta impressione è all'organo genitale amico è proprio una cosa che fa tanta impressione io mi ricordo benissimo il giorno dopo mi alzo la mattina vado in bagno come ogni mattina e dissi ti ringrazio signore che vado al bagno con le gambe mie e che posso adempiere le funzioni fisiologiche da solo perché mica è tanto scontato questo qui respirare e deglutire sono grazie sono grazie di Dio la nostra sciagurata condizione purtroppo delle volte come dire richiede che se non ci viene se non ci accoglie è una disgrazia non non percepiamo non ci rendiamo conto di doni che abbiamo sebbene mia sorella mi ha messo in posto di tacere in compenso una psicologa venne a trovarmi in stanza e mi subisero di domande per farmi parlare non capì lì per lì il perché di tutte quelle domande di rispondere alle quali era un tormento fisico quando però alcuni giorni dopo chiese mia sorella la gentilezza di portarmi una bibbia e di fare venire un sacerdote a confessarmi e per tutta risposta ottenne che l'indomani lei venisse non solo senza bibbia sacerdote ma accompagnata da uno psichiatra compresi il suo sospetto le mie prime parole pronunciate e le mie inusuali richieste erano per lei prova di un'alterazione delle mie capacità cognitive alterazione dovuta all'insulto cerebrale anossico assicuro dell'arresto cardiospiratorio causato dalla fogorazione detto in parole prosaiche la sorella pensa questa è uscita matta il coma gli ha fatto male traduco in parole molto più prosaiche e come avrebbe mai potuto credere allora a quello che per mandato divino avrebbe potuto raccontarle se avendogli appena accennato le mie capacità cognitive venivano giudicate alterate e se per lei sarebbe stato impossibile credermi come avrebbero potuto credermi gli estranei cercando di trovare allora qualche prova a sostegno della mia sanità mentale mi venne in mente di dirle chiede mio marito Luis Fernando ciò che vide dopo la fogorazione se vorrà risponderti con sincerità ti dirà di avermi visto fuori dal corpo andare verso il cielo non può essere questo un frutto della mia mente se una terza persona mi ha visto realmente queste mie parole scalfirono solo superficialmente la sua convinzione circa l'esattezza della sua ipotesi diagnostica sono menzionata effettivamente però mio marito da circa 6 giorni con grande commozione e mia insaputa andava ripetendo a tutti i parenti e conoscenti la visione alla quale mi ero riferita non potevo io saperlo perché da quando riuscire dal coma essendo stato messo in regime di isolamento per circa 3 giorni non avevo potuto vedere nessuno eccetto il personale medico nonostante la mia adesso scusate un altro paragrafo è la prima crisi per la missione nonostante la mia lucida argomentazione portasse elementi che avrebbero permesso a mia sorella Cristina di verificare l'oggettività della mia esperienza estracorporea lei non solo non mi credette mi lasciò in mano dello psichiatra e non mi fece la gentilezza di chiedere a una società di venirmi a confessarmi ma convocò i miei familiari per comunicare a loro che l'incidente aveva bruciato i miei neuroni all'incontro era presente anche la segretaria di allora del mio studio odontoiatrico quest'ultima convocò poi nel mio studio le mie pazienti più strette molto preoccupate per la mia salute e desiderose di avere le mie notizie per sapere se le loro preghiere fossero state esaurite l'incipit che diede il ritmo all'incontro fu la frase della mia segretaria rivolta convenuti devo comunicarvi una brutta notizia anche le mie pazienti con un trono tra l'interrogativo e l'esclamativo dissero no è morta la dottoressa frase che preparò il grande finale della breve riunione peggio è diventata matta dio mio ora ne colgo l'aspetto bruttesco ma allora era per me un dramma avevo perso la credibilità attribuita dalla mia famiglia e dai miei pazienti quella cioè radicata nella competenza professionale da me esercitata e dai miei pazienti riconosciuta e quella maturata e sperimentata nei rapporti assidui e intimi avevo perso dunque la somma della credibilità che avevo saputo meritare negli anni sia i miei parenti sia i miei più affezionati pazienti non avrebbero offerto agli estranei quell'anticipazione di credibilità che avrebbe facilitato a questi l'accoglienza della mia testimonianza caddi in crisi dio mio pregai sai che sono disposto a raccontare la mia esperienza ma non mi crede nemmeno la mia famiglia come potrò raccontarla agli estranei lasciamo tutto ciò approvato amen a questo punto qui non c'è molto da da commentare no se non la normalità del fatto che a tutti succede questo se ci stanno di mezzo le esperienze come queste insomma grosse è più facile ma chiunque si avvicina al signore se sta in un ambiente di lontananza gli dicono che è diventato matto tutti matto o talebano o fondamentalista o bigotto qualcosa con preoccupazioni eh nel senso che a volte si va a prendere di petto qualcuno come nel caso di questa situazione e a dire cerchiamo di fare qualcosa parlateci voi perché questa è uscito da destra questo è diventato matto purtroppo quindi nessuno stupore quando accadono queste cose tutto assolutamente normale tutto previsto tutto secondo copione tutto secondo programma niente di che d'accordo e adesso ora veniamo alla terza esperienza mistica la stessa notte in cui pensai che le difficoltà e le iniziative della missione affidata mi fossero insuperabili e che fossi perciò legittimata a rinegoziare con Dio i termini della mia missione ebbi problemi cardiorespiratore la persona che mi vegliava vedendomi in pallidire allertò l'infermiere e questa cercò di contattare il dottore di turni ma non riuscì a trovarne uno disponibile mi applicò allora la mascherina dell'ossigeno siccome ero impossibilitata a inalare alcunché persi conoscenze senza rendermene conto mi ritrovai nuovamente quelle dal mio corpo in caduta libera nell'abisso di oscurità in direzione della medesima voragine viva e spaventosa del bar sovurgatorio in cui ero stata tratta in salvo e che io chiamo caos il luogo in cui confluiscono i disordini bestiali dell'umanità prima di precipitare nell'inferno questa esperienza fu ancora più terribile di quella precedentemente vissuta perché questa volta non mi fermai nella parte alta della voragine trattenuta da San Michele Arcangelo ma continuai a precipitare fino a schiantarmi nel fondo fangoso di essa le creature orribili mi saltarono addosso come bestie famediche su un pezzo di carne veni raggiunta immediatamente anche dallo spaventoso demonio che aveva già prima reclamato il mio possesso e che ora colmo di satanica soddisfazione mi afferrava violentemente per il piede destro e mi trascinava lungo il letto di un rigagno orlicuamoso che scorreva nel fondo di questa voragine tenebrosa verso lo scarico della fogna infernale e cioè un'altra voragine che pensai fosse alla porta dell'inferno cercai di aggrapparmi affondando le mani e le unghie nel letto di questo rigagno orlicuamoso ma il fluido vischioso di cui mi parve fosse composto cioè una sorta di miscuglio nauseabondo di sangue latte e sperma è la roba impedì che riuscissi a farvi presa e a porre così resistenza alla forza brutale e sovrumana del demonio gridai terrorizzata e ricordai che non mi ero confessata come il signore mi aveva ordinato di fare appena fossi l'entrata nel corpo quando mi vidi ormai in prossimità dello scarico della fogna infernale incominciai a piangere e implorare il perdono di Dio per essermi subito abbattuto alle primissime difficoltà incontrate per la tempia in una missione affidata pietà di me pietà di me signore fammi ritornare non ottenne alcuna risposta il demonio continuava a trascinarmi sempre di più vicino alla fogna infernale e un pensiero illuminò la mia mente il signore comanda solo ciò che la buona volontà dell'uomo può effettivamente compiere e allora ebbi l'audacia di promettere signore racconterò la mia esperienza con la tua grazia lo farò mille mille volte anche se nessuno dovesse credermi appena finì di pronunciare la mia promessa poi facciamo tutto un commento venni strappata dalle grinfie del demonio e mi ritrovai nuovamente nel mio corpo avevo appena visto la punizione che avrei meritato se non fossi stata fedele al comando del signore per l'esperienza appena vissuta mi era divenuto chiarissimo che fosse un mio dovere indirogambi e raccontare la mia esperienza appena le condizioni fisiche me lo avrebbero permesso il mio senso del dovere della missione così efficacemente instillatomi dall'esperienza permessa da dio diventerà quella prima anticipazione di credibilità di cui gli estranei parenti avrebbero avuto bisogno per credere alla mia testimonianza la prima non in senso temporale il signore aveva già infatti dato alcuni elementi su cui fondare l'oggettiva credibilità della mia esperienza extracorporea sebbene io non li avessi ancora del tutto chiaro e sebbene essi non fossero stati ancora confermati dai diretti interessati come in seguito fecero nonostante tra le loro conferme disponesse alla burla dei miei futuri detrattori gli elementi tratti dal signore a cui faccio riferimento sono i seguenti mia figlia confermò di aver sentito il mio abbraccio mia cognata confermò di essere svenuta come io l'avevo visto fare e mio marito confermò di avermi visto salire in cielo utilizzo l'espressione prima anticipazione di credibilità dunque intendendo con essa che senza il mio senso del dovere sovrastante il mio senso del pudore nel mettere a nudo la mia vita e il mio timore di essere rifiutata nessuno avrebbe mai potuto credermi totalmente perché sarei stata percepita incoerente ringrazio dunque Dio per avermi fatto meritare nel dolore questa coerenza espressa dal mio senso del dovere il signore aveva in serbo altri meravigliosi segni che avrebbero sostenuto ulteriormente la missione affidata ma io all'epoca non lo sapevo ancora allora amici diamo un piccolo commento a questa terza esperienza mistica e al suo esito e poi chiudiamo la puntata di oggi allora la cosa importantissima non si era subito confessata e si era scoraggiata la frase calte che dobbiamo sempre ricordare il signore comanda solo ciò che la buona volontà dell'uomo può effettivamente compiere punto se tutti quanti ce lo ricordassimo bene non cadremmo in questa in nessuna tentazione San Giro l'uomo diceva i dieci comandamenti nessuno si azzarda a dire che sono impossibili è possibile osservare anche oggi con perfezione il sesto comandamento non commette ratti impuri certamente sì perfezione assoluta perfezione assoluta assoluta ma nel altore contesto iper pansessualizzato sì sì è la buona volontà figlioni michel la buona volontà pace in terra agli uomini di buona volontà dicevo in una meditazione di questa mattina buona volontà è tutto la buona volontà tutto eudochias famosa espressione che adesso hanno cambiato la traduzione italiana la buona volontà corroborata dalla grazia ci rende capaci di tutto è guai se non la usiamo un'altra cosa molto importante qui ci ha descritto la dinamica della dannazione cioè sapete come ci danniamo esattamente come abbiamo sentito tu stai stando di peccato mortale il diavolo ti prende e ti trascina nell'inferno con le sue unghie da cui non ti puoi divincolare il diavolo si prende quello che è suo e non lo molla guardate quella porcheria del fluido vischioso che cosa ci stava dentro ecco per essere strappata da questa sorte deve pronunciare la sua promessa signore racconterò la mia esperienza con la tua grazia lo farò mille volte mille anche se nessuno dovesse credermi fine 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 della trasmissione fine della trasmissione e con questo torna nuovamente e poi dalla prossima volta comincerà l'ultima parte di questo di questo di questo testo che è la mia vita dopo le esperienze nell'aldilà però di questo cominceremo a parlarne dalla prossima puntata Dio vi benedica amici e la Santa Vergine sempre tutti vi protegga